Il famoso giocatore, il famoso calciatore Patrick Zizek sarebbe svenuto in campo oggi 20 febbraio 2021 durante la partita Ascoli-Salernitana. Si sarebbero creati dei momenti di grande paura, di grande preoccupazione nel momento in cui proprio il buon cacciatore in questione polacco sulla tre quarti si sarebbe arrestato, avrebbe cercato di rialzarsi ma sarebbe poi ripiombato verso la terra. Ovviamente in quei momenti è tornato alla mente di molti ma non di tutti quando il buon Pierpaolo Morosini purtroppo perse miseramente la vita. Vi ricordo che Zizek è un centrocampista che appartiene alla Salernitana, questa partita di calcio. Insomma momenti di pura preoccupazione, momenti di puro panico in questa partita di calcio tra l'Ascoli e la Salernitana dove Patrick Zizek ripeto che è svenuto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo sarebbe quanto, un salutone caro, questo video non vuole violare la bravo di Zizek ma solo informare eventuali persone. Al prossimo video da Leandro, narratore italiano.